La stabilizzazione dei precari dei Vigili del Fuoco. Il Corpo Nazionale ha bisogno di risorse fresche, di giovani, perché numericamente siamo all'osso, anche perché dobbiamo rispettare gli standard europei di un Vigile del Fuoco ogni mille abitanti. Ciò è possibile grazie all'attuazione della risoluzione Fiano, che è già stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale lo scorso giugno 2017. Inoltre il piano prevede un piano quinquennale di assunzioni, questo piano quinquennale di assunzioni appunto per evitare una guerra fra poveri, che oltre alla risoluzione Fiano e alla stabilizzazione dei precari abbiamo diversi concorsi, fra cui il concorso 814 e quello a 250 che dovranno essere banditi. Noi come esecutivo regionale USB non abbandoneremo la lotta fino a quando non vedremo realizzati i nostri progetti, fra i quali appunto c'è l'eliminazione totale del precariato.